Mi scusi signore, cerco un lavoro, sono uno che lavora sodo, raggiungo gli obiettivi. Il mio motto è, se vuoi vincere la lotteria, devi fare i soldi per comprare il biglietto. Che ne dici, potrei iniziare domani o magari stasera? No, non cerco nessuno. Siamo i primi, riprendi dentro la macchina! Ehi, state indietro! Diamo solo un'occhiata. Questa roba va in tv? DG del mattino, il sangue porta soldi. Mi prenderebbe a lavorare. Voglio entrare nella produzione televisiva. Tu, allontanati! Io sono un nuovo tipo di giornalista. Avrai visto il mio pezzo stamattina su quell'incidente mortale? No, cioè, non ho la tv. Hai il cellulare? Sì, col GPS? Sì. Molto bene, sei assunto. Ok. Adesso gira a destra. Andiamo troppo veloce! Abbiamo fregato la polizia! Non ti chiederò mai di fare qualcosa che non farei io stesso. Devo farle vedere qualcosa che le piacerà molto. Hai un occhio particolare. Quando hai qualcosa di forte, batti un colpo. Per esempio? Pensa al nostro telegiornale come a una donna che urla in strada con la gola tagliata. Credo ci vedremo presto. Possibile omicidio al 257. Tocca a noi! Dobbiamo chiamare la polizia. E lo faremo. A tempo debito. Prima troviamo chi era alla guida. Comincio a filmare! Oh, grazie! Sono il detective Fronteri e lei non ci sta dicendo tutto. Questo sarebbe davvero poco professionale da parte mia. Sarebbe omicidio. Voglio quello che mi hai promesso. Voglio qualcosa che tenga il pubblico incollato allo schermo. 9-1-1, mi dite. Continua a riprendere! Oh mio Dio! Lo sciacallo, Nightcrawler. Credo che lui sia d'ispirazione per spingerci un po' più in là. Da novembre al cinema.